E' stato un mese senza queste coccoline che ci facciamo la sera E' stato un mese in giro senza queste coccoline Come hai potuto fare? Te le ha fatte qualcuno queste coccoline qui? Queste coccoline della sera chi te le ha fatte? Queste coccoline della sera chi te le ha fatte? Te le ha fatte qualcuno? Le coccoline che vai ad andare a letta te le ha fatte qualcuno? Non lo so Perché io non lo so se te le ha fatte qualcuno Queste coccoline qua Non lo so Tutto te le ha fatte qualcuno Tutto te le ha fatte qualcuno Sono un mese e sanno che si sento questo coccoline E ti sniffo la mente qua Scusa non vuole dire ma non le spiglie Non vuole dire ma non le spiglie Non ti puoi fare queste... come si dice? Non ti puoi riempire i polmongini di me? cioè, rifletti per me è una cosa normale mi vuol dire che non è rifletti non puoi cioè, io capisco come vuoi bene, come io ti voglio bene ma non puoi fare così cioè, l'aria è quella che si respira adesso, adesso che facciamo io mi vorresti spray mi vorresti, non so, un pezzo nero un pezzo nero a solo un pezzo nero a solo va bene perché ogni tanto mi fai un'inhalazione ti fai un'inhalazione di patrancina più se per tirarsi su che dici? non credo che sia cioè, è un po' morboso questo che dici? non esistono gli spray l'erosol che scendiamo nel patrioncino non si vieno la nostra parte non è tutto mi puoi respirare qualcosa di così mi puoi respirare mi puoi respirare mi puoi respirare l'aria come vuoi stia e quindi controllo e quindi non si riascita lo tiriamo la nitrima più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non imbaccia la mamma, allettino mio, che sono grande, un anno e due mesi, quanti mesi? Un anno e un po' di mesi. Un bacino in batta.